Sai che io mi ricordo sempre nel 2010 quando tu, io ero sulle scale lì alla Pupessecchione che eravamo tutti seduti sui gradoni, gradoni sì, e tu mi hai detto una cosa, una cosa bella che io la ricorderò per sempre. La cosa ti ho detto? Mi è da piangere. Dimmi la cosa ti ho detto. Non dire cosa. No, ti devo veramente ringraziare perché nei momenti in cui sono giù io penso a te. Perché mi hai detto Francesca tu ce la puoi fare, tu puoi fare televisione, tu mi hai detto queste cose qua Enrico, hai creduto in me. Ed è vero, non puoi fare televisione. Sei brava, sei empatica, sei simpatica, sei ironica, quindi la fai la televisione. Sì, però non è facile in questo mondo che tutte le persone credono in te e ti dicono queste cose. Quindi tu me le hai detto e io ogni tanto quando ho dei momenti bui o comunque sai com'è questo settore non sempre si lavora, comunque ci sono dei periodi down in tutto. Io immagino te che mi dici quelle cose per tirarmi su di morale e mi hai dato tanta tanta forza, te lo giuro Enrico, te lo devo dire grazie. Grazie, grazie, è da sempre che te lo volevo dire. Giuro. Grazie, sono contento per te però vedrai che farai un grande strada perché sei brava, sei intelligente, sei simpatica. Sì, ma grazie a te. A volte nella vita i grazie vanno detti, non tutti lo dicono e sono riconoscenti. Quindi lo devo dire sempre a testa alta grazie a Enrico Papi. Grazie.